Abbiamo iniziato a mettere insieme tutte le direzioni più interessate, dunque partiamo dal presupposto che in Lombardia la comunità è di 55.000 persone, quindi è chiaro che dobbiamo pensare a poter ricevere un numero consistente, io penso fra i 50 e i 100.000. Noi ci siamo messi già al lavoro, sia per individuare luoghi dove poter ricoverare le persone che arriveranno, quindi stiamo rimettendo in funzione i Covid hotel, stiamo facendo una mappatura di tutte le residenzialità nei quali poter mettere i profughi, stiamo facendo un esame, anche una mappatura delle case Aller per eventualmente utilizzare quelle, stiamo ricevendo molte disponibilità, anche poco fa ho ricevuto la telefonata di una persona che rappresenta un'istituzione importante che può mettere a disposizione molte abitazioni. Dall'altro lato stiamo studiando, stiamo predisponendo anche iniziative da un punto di vista sanitario, sia per ricevere i bambini, voi sapete che fin dal primo giorno stiamo parlando e collaborando con la fondazione Sole e Terra per ricoverare nei nostri ospedali di Pavia e dell'Istituto dei Tumori quel gruppo purtroppo di bambini malati oncologici. Stiamo comunque facendo un esame anche delle quantità di materiale inteso come medicinali che possono essere inviate direttamente là e qui stiamo organizzando e stiamo mettendo a punto tutto quanto necessario per un'assistenza sanitaria, per un'assistenza sia sul territorio sia all'interno degli ospedali.